Buongiorno e bentrovati! Eccoci qui, oggi vi devo presentare una persona molto speciale, si chiama Monica Quernaggia, l'è titolare di questo fantastico salone che si chiama Etiria e oggi vi sveleremo alcuni trucchi per prendervi cura di voi e dei vostri capelli. Per cui, Monica, raccontaci dove siamo e che cosa fai. Ciao a tutti, sono Monica e sono la proprietaria del negozio Etiria. Noi siamo in via Manzoni 4 a Monza. Il nostro motto cos'è? Qual è? Riequilibriamo la salute del capello per una gestione serena del tuo look. Questo vuol dire che noi ci prendiamo cura della salute della vostra cute e del vostro capello. È molto fondamentale prendersi cura della cute e del capello, perché se il capello è sano, la cute è equilibrata, tutti i lavori tecnici, tutte le pieghe, vengono e si vedono che sono capelli sali. Quindi ricordatevi sempre di prendervi cura dei vostri capelli. Ricordatevi anche che una bella piega fa bene all'umore, soprattutto in questo periodo. Per cui, siccome i parrucchieri sono aperti, perché non pensare a un regalo speciale di Natale? Quindi regalate alle vostre mogli, compagne, sorelle, zie e nonne delle pieghe, dei trattamenti, delle acconciature. Monica vi aspetta, potete prenotarli a questo indirizzo oppure telefonare qui in salone. e Monica vi consiglierà il trattamento e anche il regalo più adatto per le persone a voi care. Chiamaci anche solo per un consulto. Noi siamo qua per te, per voi. Ciao! Ciao e ora Monica ci farà vedere questa acconciatura dedicata alle feste, che quindi potrete fare magari per il pranzo, per la cena di Natale o per altre occasioni speciali. Per cui, buona visione! Ricordatevi che un altro grandissimo pregio di Monica, oltre alla grandissima professionalità, è anche la sua creatività. In tutti questi anni, e credetemi, sono davvero tanti, forse ancora più di dieci, di Moni, penso proprio di sì, che vengono qui e tutte le volte che ho un evento o una celebrazione importante, Monica ha sempre realizzato un'acconciatura diversa, nuova e bellissima, per cui fidatevi di lei! Grazie! Da-da, ecco i tocchi finali, vi faccio vedere questa fantastica creazione di Monica. Allora, gira, 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 così. Questo è l'altro, perfetto! E questo è l'altro! Buongissima, io ve l'ho detto che Monica è un'artista, adesso ve la faccio vedere anche così. Giusto? Sì, sì, sì. Ecco, per cui ricordatevi che per qualsiasi occasione Monica è a vostra disposizione, questo è il suo numero, e chiamatela, e ricordatevi che saranno anche dei fantastici regali di Natale per le vostre persone care. Quindi regalate pieghe, acconciature, trattamenti, che quest'anno davvero sono regali grandissimi. Un bacione da parte mia, grazie Monica, ciao! E a prestissimo, continuate a seguirci perché ci saranno anche dei video per le acconciature, per le dirette Instagram e anche per presentarsi al meglio con le video call. Ciao! Ciao a tutti!